prova radio sony icfm 300l comprata su ebay si vede che il vano batterie è stato grattato pulito da acido mettiamo le batterie ecco qua allora sicuramente la radio era messa sotto sopra quindi l'acido ha contaminato la tastiera andando a interrompere i contatti infatti mv lv funzionano anche la sintonia ma fm per quanto si schiacci o off non danno assolutamente alcun segno di vita nonché tutto quello che riguarda il controllo del dell'orologio i tasti vanno però questa parte qua off fm questi tasti sono sicuramente corrosi volendo possiamo andare ad aprirla e a vedere che ci saranno segni di corrosione anche il volume adesso mettiamo una stazione che si sente va e non va è alto poi si abbassa e poi si rialza probabilmente anche esso è stato contaminato dall'acido delle batterie grazie la